Buonasera a tutti stasera ho deciso di mangiarmi tre pizza adesso devo prendere un po di roba da portare giù perché questo qua si chiude si chiuderemo la luce adesso crescendo su un po di roba un po di video adesso arrivo un attimo ce la faccio ok ci sono un po' di telefono e di trappiegi allora prendiamo luce in camera andando tutto chiudo la porta perché odio l'odore di cibo in camera ci vediamo dopo no aspetta vi faccio vedere le pizze queste tre quattro formaggi pizza margherita e diavolo e nella margherita mettiamo hamburger freschi tutto appena preso e niente a dopo ciao ciao buon appetito adesso iniziamo a scaldare il forno non è la madre con le pizze e hamburger niente metterò tutto si dio un po' più veloce giusto per ottimizzare i tempi a dopo iniziamo a scaldare il forno e l'abbiamo Grazie a tutti. Grazie a tutti. Eccoci, arriva la pizza, buon appetito, le altre sono nel forno. C'è ancora quattro stagioni e salsiccia, no, hamburger, qualcosa. Quattro formaggi, ah, diavola e margherita che io ci ho messo su l'hamburger. Buon appetito. 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 e niente ho finito di mangiare tutto adesso mi prendo un caffè e poi non lo so poi vedrò cosa cosa inventarmi quando davanti alla televisione o dare qualche video giocare la playstation non lo so un grazie a tutti quelli che mi hanno seguito alla prossima diavoleria che mi verrà in mente ciao a tutti